Un buongiorno a tutti i campanelli di Youtube, mi trovo sul campanile di Diano Castello, abbiamo un concerto di quattro campane e adesso vi farò ascoltare l'Angelus Prefestivo. Qui vediamo un po' di panorami da il campanile Diano Marina. Poi qui abbiamo San Pietro e vediamo il Credo. Il campanello, abbiamo un po' di ballate, campanile dell'Assunta e campanile dei frati. Poi a questa parte non si vede niente, a parte il lato della chiesa. E niente, vi lascio all'Angelus Prefestivo. A presto, interni saluti da Campanaro Vecchio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.